Salve a tutti, sono qui a Viareggio, ho fatto un incontro invitato dall'associazione Meglio di Ieri e devo dire che è stato un incontro molto interessante. Il pubblico era molto interessato a questi temi, ha ascoltato in religioso silenzio tutto ciò che è stato raccontato nelle due ore e devo dire che le domande sono state all'altezza della situazione perché erano domande competenti, molto interessate e sono entrate nel merito delle questioni che poi sono sempre le stesse. Noi in fondo raccontiamo che il denaro può essere creato dal nulla senza alcun problema che lo Stato è l'unico soggetto che potrebbe creare denaro in questa situazione nonostante l'euro e i trattati europei e che creare denaro in questo momento provocherebbe sicuramente un'espansione dell'economia e non provocherebbe i problemi che invece vengono detti dalla maggior parte delle persone quando ipotizziamo che lo Stato crea denaro, cioè l'inflazione, la svalutazione della moneta sono tutte cavolate perché in questo momento, come ho dimostrato, la situazione è tale per cui c'è disoccupazione, scarsa capacità produttiva perché noi abbiamo macchinari e risorse per poter produrre molto di più ma non riusciamo a farlo per mancanza di soldi quindi creare soldi in questo momento metterebbe in condizioni l'economia di occupare i disoccupati attuali e di arrivare a una maggiore produzione di beni e servizi che quindi non genererebbe nessun problema nell'economia oltre al fatto che creare moneta senza debito provocherebbe sicuramente una riduzione del debito pubblico e privato che c'è attualmente